Mi piacciono le cose impossibili, quindi una cosa impossibile è impossibile finché non arriva un marchigiano e la risolve. Quindi io credo che questa sia la cosa più importante, quindi la nostra tenacia credo che sia veramente la qualità, una delle qualità migliori che abbiamo. Bene, e allora Presidente, sveliamo quello che sarà il claim della nuova campagna promozionale delle Marche. Il claim pronti per una nuova stagione, che è la stagione di rinascita, speriamo, post-Covid, la stagione della riscoperta delle nostre bellezze, soprattutto incrociando le dita non lo dico, però intanto, siccome con il nostro mister non ci vedremo prima che si risponderanno i campionati europei, facciamo i nostri auguri. Non so come funziona nel mondo del calcio, meglio in bocca al lupo, meglio nel piacere, però sa mister che avrà con sé un milione e mezzo di tifosi particolari sempre, ma quest'anno in maniera ancora più particolare. Bene, grazie, grazie a tutti e concludiamo con alcune immagini che abbiamo rubato sul set con il backstage, prego. Eccolo qua alle vostre spalle. 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 Eccolo qua alle vostre Erin. grazie a tutti Bene, è quasi a simboleggiare un passaggio di consegne dalla vecchia campagna alla nuova, facciamo omaggio delle maglie, delle marche outdoor del ciclismo che saranno utilizzate anche da Roberto quando andrà per le nostre strade. Mazzini, togliere adesso. Presidente. Bene. Adesso le televisioni possono fare le interviste qua fuori. Grazie. Grazie. Il meeting